Alle sette, sette e mezza precise, intappati nelle nostre divise, la maggioranza noi siamo e i sacrifici facciamo e la pensione sogniamo, ma l'importante è salvarsi l'anima, l'essenziale è tornare a credere, salvarsi l'anima, come si fa in questo mondo di eresie, i falsi eroe, ipocrisia, ci vuole fede, speranze e carità, se tu ti vuoi salvare l'anima, amico mio devi decidere, l'amore è rosé e agape, e dare un calcio alle passioni, resistere alle tentazioni, un giorno qua e un altro chi lo sa, se tu ti vuoi salvare l'anima mezzogiorno, mezzogiorno si mangia, il problema è avere piena la pancia, si vive di solo pane, qui nel mercato globale, senza futur né ideale, ma l'importante è salvarsi l'anima, l'essenziale è tornare a credere, salvarsi l'anima, come si fa in questo mondo di eresie, di falsi eroe, ipocrisia, ci vuole fede, speranze e carità, se tu ti vuoi salvare l'anima, amico mio devi decidere, c'è chi dà la vita per il successo, ma poi scopre che infelice lo stesso è un animale che pensa, tutto il cervello è scienza, senza più cuor né coscienza, ma l'importante è salvarsi l'anima, amico mio devi decidere, l'amore è rosé e agape, e dare un calcio alle passioni, resistere alle tentazioni un giorno qua, e un altro chi lo sa, se tu ti vuoi salvare l'anima, ecco il tuo corpo di risorgere. Grazie a tutti!